Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise, campionato di Serie D, si gioca la terza di ritorno. Un anticipo San Nicolò Teramo Francavilla, seguire Fabriano Cerreto Campobasso, Isina Matelica, Monticelli Avezzano, Nero Stellati L'Aquila, Limpianionese Castelfidardo, San Giustese Recanatese, Vastese Pineto, Vispesaro San Marino. Il Campobasso alla ricerca di un risultato positivo domani pomeriggio sul campo del Fabriano. Il Campobasso a Fabriano con due dubbi di formazione. Il primo riguarda Capozzi che ieri si è allenato a scartamento ridotto. L'altro è Augustus Carbò su cui c'è un discreto ottimismo circa l'utilizzo dal primo minuto. Possiamo abbozzare una formazione sia con che senza il baby rosso-blu difensore che un classe 98 in Porta Landi difesa 3 con Capozzi del Duca e Benvenga. Sugli esterni potrebbe essere confermato Elefante a sinistra mentre a destra annunciato balottaggio fra Del Prete e il brasiliano Salim Ribeiro. In questo modo si andrebbe verso una riconferma del centrocampo interamente senior di domenica scorsa con Danucci, Varsi e Gerardi. Attacco affidato ad Augustus e Balistreri. Se invece Capozzi non dovesse recuperare sarebbe difficile che Foglia Manzillo decidesse per Bisceglie sempre sulla linea dei tre difensori. Molto più verosimile che venga coinvolto il classe 99 Vecchione nei panni di quarto fuori quota a centrocampo. Insomma Capozzi risulta essere l'ago della bilancia per la formazione titolare di domani o eventuali modifiche a essa non per il valore del giocatore in sé quanto per la sua classe di età. Il Campobasso gode di buona salute e ha riacquisito i connotati di squadra a tutti gli effetti dopo la rivoluzione di giocatori messa in atto dalla società rosso-blu nel mese di dicembre. Sulla strada del Campobasso un avversario fra i più modesti del girone, almeno questo recita la lettera della classifica. Se possibile però le formazioni che vanno alla ricerca della salvezza come il Fabriano Cerreto nel girone di ritorno sono più complesse e ostiche da affrontare. Per il rosso-blu è una gara che varrà tantissimo ma altrettanto si può dire pure per il Fabriano allenato da Sauro Trillini. A dirigere l'incontro è stato designato il signor Villa della sezione di Rimini. Intanto la squadra ha fatto ieri mattina una visita presso i saloni del pastificio La Molisana con tanto di foto di gruppo anche con i vertici della nota azienda nostrana. Tutto questo mentre c'è pure una discreta agitazione a livello societario a tenere banco. Sono ancora le scarse presenze di domenica contro il Monticelli, un aspetto che proprio non è stato digerito dal presidente Danilo Leone. Sembra che quest'ultimo possa essere intenzionato a reperire una sede alternativa a Selvapiana per la prossima gara interna del Campo Basso. Una risposta quest'ultima che suona come provocazione al deserto di Selvapiana di domenica scorsa. Anche se ad onore del vero va detto pure che non più di due mesi fa e quando la squadra era prima in classifica si sono toccati picchi di duemila spettatori. Sarà stato il calo vistoso di risultati oppure una campagna comunicativa un po' troppo sopra le righe senza il conforto dei risultati? Tante le ipotesi al vaio proprio mentre Leone medita di cambiare sede al Campo Basso. Succederà realmente? Staremo a vedere. Seconda gara consecutiva in casa per l'Olimpia agnonese che domani pomeriggio ospiterà il Castelfidardo. Terza giornata di ritorno nel Gironeff, l'Olimpia agnonese per la seconda domenica consecutiva giocherà al Civitelle, ospite di turno il Castelfidardo. All'andata la gara terminò a reti inviolate, un cammino fino a qui positivo per i marchigiani che in classifica con i loro 28 punti sono sopra le due molisane. Una gara molto ostica per l'agnonese poiché è proprio in trasferta che i fidardensi esprimono il loro migliore gioco. I molisani dovranno stringere i denti per conquistare la seconda vittoria consecutiva tra le Muramiche e mantenere il primato di miglior difesa casalinga con soli 4 gol subiti. Il DS d'Ottavio ha descritto gli ospiti come una squadra tosta che può vantare un attacco importante grazie al quale segna con continuità, ma allo stesso tempo è un 11 che subisce gol con frequenza. In settimana gli altomolisani hanno lavorato tanto in vista del match di domani. Una vittoria significherebbe continuare a sperare in una salvezza diretta senza passare per i play-off. Grazie alla vittoria di una settimana fa i Granata sono usciti dalla zona calda della classifica, una spinta in più per scendere in campo con la giusta grinta. Domani tornerà a disposizione Rullo, che ha scontato il turno di squalifica, mentre il neoacquisto Ceria sederà in panchina a disposizione del tecnico. L'undici che Dimeo ha intenzione di schierare non dovrebbe scostarsi da quello che ha superato di misura una settimana fa il Fabriano Cerreto. Tra i pali tornerà Faiella in difesa, come detto, casacca da titolare per Rullo, affiancato da Cassese, Fra Botta e Litterio. Al centro del campo di Lollo, Corso e Madi, match winner contro i marchigiani, in attacco Giglio, Ferraro e Santoro. La partita tra Olimpia Nionese e Castelfidardo sarà diretta dal signor Gianluca Grasso della sezione di Ariano-Aerpino, assistito da Carmine Castiglione di Frattamaggiore e Paolo Cipolletta di Avellino. Basket femminile di serie A2, la molisana Campobasso, oggi alle 18, ospite dell'Orvieto. In campo anche il Globo Isernia, questo pomeriggio, sul parche di Roma. Il Venafro, invece, domani ospiterà il Battipaglia in Cisilver, posticipata mercoledì, la trasferta dell'Aerino Basket Termoli sul parche del Basket Teramo. Adesso il calcio d'eccellenza. Quattro gli anticipi a Liffe Termoli, Campobasso 19-19, Vulcana, Sesto Campano Treppini Matese e Basto Girardi Guionesi. Giocheranno domani Boiano Venafro, Frentana Campo di Petra, Isernia Spinete, Olimpia Riccia Gambatesa. Il quadro della terza di ritorno si chiude domani. Diciottesima giornata del campionato di eccellenza. Dopo il recupero di mercoledì scorso, Lisernia torna in vetta alla classifica e si prepara al terzo match in otto giorni con lo Spinete. Ormai relegato in fondo alla classifica, ma che potrebbe rivelarsi comunque un pericolo. Gli uomini di Mister Di Rienzo puntano alla vittoria per blindare la posizione di prima classificata. Arbitro Scarati, assistenti De Santis e Palazzo. Anche il Boiano è uscito vittorioso dal recupero infrasettimanale e domani al Colalillo dovrà vedersela col Venafro in lista per i play-off. Punti importanti in palio, insomma. La squadra di casa deve puntare alla salvezza gli ospiti ad un miglior piazzamento in classifica. A dirigere l'incontro De Vincentis, qua di Uvato da 40 e Farina. La neopromossa Frentania ospita in casa il Campo di Pietra. Sono solo tre i punti che distanziano le due. Ed una probabile vittoria della squadra pogliese porterebbe la situazione alla parità. Per la regolarità della gara, Cicchini, Bibò e Mainolfi. Al Poce si disputerà invece il derby del Fortore. Gli uomini di Cordone in risalita potrebbero essere un nemico ostico per il Gambatesa, già abbattuto nella giornata di andata per 3 a 1. Direttore di gara, il signor Mallardi, assistito da Veneziale e di Tullio. L'Isernia ospita lo Spinete, obiettivo mantenere la vetta. Marco Di Matteo, dopo una lunga assenza sei tornato in squadra, sei tornato a giocare contro il Gambatesa di nuovo in gol. Com'è la tua condizione fisica? Sono rientrato prima di Natale senza affrettare i tempi e diciamo che adesso sono in buone condizioni. Ovviamente queste partite avvicinate non aiutano me ma penso che non aiutano nessuno, però purtroppo sono cose che capitano e noi dobbiamo pensare a vincere indipendentemente da quando si giocano queste partite. Per adesso sta andando bene e speriamo di continuare su questa strada. Ecco però dal canto vostro, dal canto dell'Isernia c'è una buona rosa che è pronta a sopperire a eventuali assenze. Sì, penso l'abbiamo dimostrato già nel girone d'andata con diverse assenze perché anche gli abboni è mancato per diverse partite. quindi abbiamo una rosa importante, abbiamo anche dei ragazzi giovani che stanno crescendo e speriamo ancora di migliorare perché c'è sempre da migliorare ma l'importante è vincere le partite. Vincere le partite, avete vinto contro il Gambatesa nel recupero, questa partita, questa vittoria vi ha riportato a più due dal Vasso Girardi in metà alla classifica dove eravate dall'inizio del campionato. Sì, il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite per poi arrivare allo scontro diretto con almeno questi due punti di vantaggio e poi magari giocare anche su due risultati in quel caso. Però, ripeto, noi dobbiamo giocare partita dopo partita e dobbiamo provare a vincerle tutte. Se così fosse, insomma, vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro e vuol dire che saremo ancora primi. E poi è un campionato che vi siete giocati fin dall'inizio a viso aperto sia voi che il Vasso Girardi. Sì, sì, stiamo facendo, penso, benissimo entrambe le squadre, stiamo tenendo un ritmo importante e vedremo alla fine chi la spunterà. Per il Boiano, domani match impegnativo contro il Venafro. Gianmarco Schipani, perno del centrocampo del Boiano, autore di un'ottima partita, arriva una vittoria veramente molto molto importante per voi in un periodo non facile. Sì, è una vittoria fondamentale. Sappiamo che dovevamo uscire da questo campo con i tre punti, abbiamo dato tutto e penso che abbiamo fatto una grandissima squadra come collettivo. Già domenica con il Guglionesi abbiamo fatto una bella prestazione in dieci, 3-1 uscire da quel campo con una bella prestazione come avevamo giocato non era facile. E niente, dobbiamo continuare su questa strada perché domenica ci aspetta un'altra battaglia. Questo lamenta per il vostro mister, le prestazioni sono sempre state, però mancavano risultati, adesso cominciano ad arrivare anche i risultati. Sì, le prestazioni sono sempre state come hai detto tu, però eravamo una squadra giovane quindi era necessario che ci servisse un po' di tempo. Però niente, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così perché riusciremo sicuramente continuando così a centrare gli obiettivi. Un calendario non facile però perché adesso forse andate a incontrare la squadra che sta meglio fisicamente, si va sul campo del Venafro in casa loro. Sì, il Venafro è una squadra molto ostica, basti pensare la domenica 29-0 con la Frentania che sappiamo essere altrettanto una bella squadra. Quindi non lo so, daremo tutto e cercheremo ovviamente di uscire dal campo con un bel risultato o quantomeno con un'ottima prestazione. Diciamo anche un campionato strano perché come sai poi dopo il mercato comincia un altro campionato, ogni domenica può uscire sempre un risultato a sorpresa. Sì, infatti notiamo come per esempio il Campobasti 19 è andato a pareggiare o ha vinto col Termoli. Il Termoli ha perso in casa con Riccia quindi sono tutti risultati che sinceramente non mi aspettavo. Però come ben sappiamo da gennaio in poi sono tutti altri campionati perché alcune squadre si rafforzano, altre si indeboliscono e niente. Ovviamente pensando a ciò dobbiamo cercare di ottenere il massimo in ogni partita. Personalmente invece ti senti bene, stai bene fisicamente? Sì, 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 no, benissimo. Comunque in settimana facciamo sempre un grandissimo lavoro che penso che si rifletta la domenica. Adesso le partite del campionato di promozione. Tre gli anticipi, Baranello Casalnovo-Monterotaro, Comprensorio-Verano-Santeliana, Matese-Quattro-Toricheuti. Giocheranno domani Carovilli-Molise, Pietramonte-Corvino-Cliternina, Ferrazzano-Rocca-Sicura, Termoli 2016-Castelmauro-Ururi-Roseto. La classifica è molto corta nel torneo di promozione. Diverse squadre in bilico tra Salvezza e Zona Rossa. Piccole metamorfose in graduatoria tra squadre che puntano alla vetta ed altre concentrate a difendersi. Siamo giunti alla diciottesima giornata nel campionato molisano di promozione. Il big match di giornata, Ururi-Calcio-Roseto, l'Ururi tornato da un pareggio con il 4-Toricheuti, dovrà battersi con la nuova capolista del momento. Il Roseto infatti è la nuova prima della lista con un punto di vantaggio sul Matese e 4 sul Pietramonte-Corvino. Fischierà i 90 minuti a Medeo-Monaco di Isernia. In casa del Carovilli invece il Molise, team ospite dopo la sconfitta di misura in casa, dovrà rifarsi. Il Carovilli è ancora in difficoltà, ultimo in graduatoria in cerca di punti salvezza. Arbitro della gara Corrado Ferrara di Isernia. Pietra-Montecorvino-Cliternina. Match atteso tra due squadre grintose. Da un lato il successo della Cliternina che con tre reti ha lasciato senza difese il Castelmauro e dall'altro il Pietra, reduce invece da un irreprensibile pareggio di 1-1 con il Matese ad arbitrare Luca Tano di Termoli. Polisportiva Ferrazzano-Rocca-Sicura. Ospiti alla ricerca del riscatto dopo il K.O. di sette giorni fa. Gli uomini di mister Pietrantonio dovranno dimostrare tutta la loro determinatezza per risalire. La graduatoria fischierà la gara a Sebastian Bruscino di Campobasso. In conclusione, Termoli 2016-Castelmauro. Gli adriatici tornati vittoriosi dalla trasferta contro il Casalnuovo-Monterotaro sembrano aver ripreso vigore. Stazionano a metà classifica con 22 punti. La squadra avversaria ne ha 23. Buona occasione per confrontarsi e sfidarsi in un match che non farà sconti. Marco Arisano di Campobasso, arbitro. Calcio a 5 di Serie B. Si torna in campo per il campionato. Il CLN Cusmo-Lise ospita del Ruvo. La Chaminade, questo pomeriggio alle 16, se la vedrà al Pala Selvapiana contro il Sagittario Pratola. Lunedì, a partire dalle 11, presso il Pala Unimol, è in programma il convegno Il Basket in Carrozzina. Allenamento e prestazione sportiva dall'aula al campo di gioco. Interperranno il presidente nazionale della Federazione Italiana Palla Canestro in Carrozzina, Fernando Zappile, il direttore tecnico nazionale coach Carlo Di Giusto ed alcuni atleti della nazionale saranno ospiti dell'Ateneo e protagonisti di un percorso interattivo con gli studenti. Ospite d'eccezione, Maria Stella Maglio, moglie del dottor Antonio Maglio, neurochirurgo pioniere della riabilitazione e dello sport terapia. Il primo campionato di 3 contro 3 street soccer è ormai alle porte, ultimi giorni per poter iscrivere la propria squadra. Sulla scia del Boiano Mundial partirà a breve il primo campionato di street soccer 3 contro 3 al chiuso dalla piazza Matesina al Pala Unimol, una prima stagione da febbraio a maggio per lanciare la disciplina nel migliore dei modi per poi partire con continuità dal prossimo settembre per tutta la stagione 2018-2019. Torneo diviso in Premier League, Liga e Serie A, match di andate e ritorno prima di approdare alla fase conclusiva dove si andranno ad affrontare le vincenti degli altri gironi play-off conclusivi previsti nel mese di maggio con le vincenti di Premier League, Liga e Serie A. Previsti ovviamente dei premi settimanali e per la classifica generale in competizione che andrà avanti sino al termine della stagione agonistica. Ogni rosa dovrà essere composta da 12 giocatori, 4 difensori e 8 laterali. La formazione di giornata sarà composta da 6 titolari con l'obbligo di schierare almeno 2 difensori. Possibile schierare anche giocatori tesserati, per questo è stato individuato il lunedì come giorno delle gare. Tantissime novità ludiche e sportive per le squadre partecipanti, oltre il campionato che sarà suddiviso in lighe. La vera innovazione riguarda l'introduzione del fantacalcio in un torneo amatoriale. Tutti i giocatori presenti nelle varie liste delle squadre avranno una quotazione individuata dal comitato tecnico in base alle caratteristiche di gioco. Verranno applicate le classiche regole della Gazzetta dello Sport. A breve la creazione dei gironi per poi scendere in campo sul parquet del Palaunimol da febbraio. Ed ora vediamo le grafiche di prima e seconda categoria. Prima categoria a girone A, la Fidelis Rock Caravindola, Athletic Migliano Sporting La Pietra, Aurora Capriatese, Domenico Di Sisto, Bois Varano Pozzilli 1967, Castel di Sangro Rial Prata, Macchia Forulum, Masserie La Corte, Volturnia Calcio, Presenzano Fornelli. Prima categoria a girone B, Campobasto Calcio, Atletico San Pietro, Carpinone Calcio, Maronea Calcio, Chiauci, Quartiere Campobasto Nord, Don Chissagnone Trivento, Mirabello Calcio Rial Gildone, Pesche Mundi Mitar, Ripali Mosani, Rial Cerce Piccola, Vinchiaturo Sant'Angelo Lemosano. Prima categoria a girone C, Angioina Coletorto Fiamma Larino, Biccaripoli Sportiva Fortore, Campomarino Portocannone, Casaldowni Polispetacciato, Gruppo GSM Macchia Valfortore, Guardia Alfiera Altila Sammi, Polisportiva Calena Amatrice, Tre Colli Rotello, Turris. Seconda categoria a girone A, Fossaltese Sepino, Gioventù Macchia Godera Giovani Morcone, Miranda Giovani Castro Pignano, Nuovo Petto Ranello Castello Matese, Salcito Campochiaro, Sassinoro Sant'Angelo, Tore Picilli, Montenero. Seconda categoria a girone B, Celenzia Oratino, la seconda a baranello Aura Xtoro, Mucsufuni San Marco Lacatola, Ripa Bottoni Mafalda Calcio, San Giovanni Ingaldo Fiamma Folgore, San Felice Calcio Morgia Pietracatella, Tufara Roccavivara. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente domani pomeriggio alle ore 14.25 a tutto campo in diretta dagli studi di Campobasso Luigi Di Lallo, Benedetta Fazio, naturalmente collegamenti da tutti i campi dove giocano le squadre molisane. Alle 18 domani pomeriggio domenica sport, fatti commenti, interviste e immagini alla domenica sportiva. Vi segnalo anche i nostri highlights, i gol della domenica domani sera a partire dalle ore 22. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon fine settimana! Buon fine settimana!